Si può annoverare tra le incompiute a Cucurano in via della stazione questa opera di urbanizzazione in convenzione con le ditte appaltatrici per il completamento di una strada di collegamento e i parcheggi che doveva partire nell'ottobre del 2013 e che ad oggi per inadempienze delle due imprese che non hanno mai iniziato i lavori non vede ancora il suo completamento. Gli abitanti della zona si battono per questo fazzoletto di terra da quasi dieci anni e noi pure della redazione di Occhio alla Notizia ce ne siamo occupati anni or sono ed oggi siamo stati nuovamente contattati. Se ero al centro di Fano questo non sarebbe esistito, è una cosa vergognosa e gli amministratori devono risolvere questa cosa. Unica soddisfazione per gli abitanti della zona quella lingua di sentiero sterrato creato per pedoni e biciclette con l'interessamento della loro amministrazione a Guzzi ma poi nulla più. La stradina in Breccino, qui a fianco l'avete fatta fare voi? Sì, la stradina io mi sono interessato io e il comune, la giunta che c'era prima con l'assessore è stato bravo, devo dire la verità, siccome li conosco tutti un po' perché è stato bravo e la stradina è stata fatta. Prego il sindaco Serri, il vice sindaco Marchigiani, poi c'era anche Minardi, ho portato a loro le foto, la lettera, tutto quanto per sistemare qui. Speriamo che trovino la soluzione idonea per tutti. L'attuale amministrazione comunale il 9 giugno scorso ha diffidato le due imprese a realizzare entro 90 giorni i lavori di urbanizzazione in convenzione, tra cui anche la strada, trascorsi i quali provvederà ad incassare la polizza a garanzia e provvedere d'ufficio alle opere. Buone notizie quindi per gli abitanti della zona.